Giorno 5 O 6 Dipende Ok Mi sono svegliato dall'aria a quanto pare Perché? Cosa? Ciao Ciao signor persona di legno Posso chiuderti la porta in faccia? Vediamo di cui Maledetto Che cerca di usare i trucchi sto altro Allora questo è vuoto Ci sono molti libri antichi dimmelo No non me lo dici Ciao vai via Basta un altro di sti cosi Allora qua Un altro fantastico Ti tiro una Ginocchiata in faccia ti giuro Allora qui Locked Locked Perché li sto liberando tutti? Perché? Io avevo un cacciavite una volta Adesso mi girerò Non ci ne sarà più neanche uno Sono tutti qua Ecco Allora secondo me Questo Questo Nasconde qualche segreto Controlliamo bene Che non ci siano segreti Allora tu devi morire Allora io guarderò qua Allora in una di queste stanze Ci sarà un segreto Sicuramente ce n'è uno Da qualche parte Allora controlliamo di qua Molto rapidamente Ok Questa porta Ok Fantastico Ed abbiamo Una chiave Questa chiave Va in una di queste porte Per esempio questa Chiudendo i matti fuori Avremo un cacciavite Un cacciavite Che noi equipaggeremo Per andare in fondo A questo bel corridoio Fare così Passare All'interno Se quei matti mi seguono Piango Io ce l'avevo Ciao Ok Tu non mi pari simpatico On which side Of the bar Ah Da quale parte delle sbarre Si trova Il vero prigioniero Non puoi saperlo La paura crea Crea la barriera La gabbia No 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 Ma io non ho paura Di sto gioco Dov'è il maledetto passaggio Della ventilazione Ventilazione Eccolo qua Sapevo io che Non capisco nulla Ok devo andare di qua No Devo andare di qua Devo andare di qua Punto di domanda Ciao bel quadro Qualcosa mi dice Che non dovevi Non dovevi Andare di qua Allora Andiamo di qua Allora Eccolo qua Via 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 It's not time yet Perché? Cosa succede dentro le ventilazioni Di così tanto brutto A parte morire soffocato O trovare una stanza piena di Di cose brutte Ci sono sei buchi Voi quanti siete? Entrate qua per favore Non avere paura di quelli che vogliono Semplicemente aiutarti Ma che cavolo Ci sono sei buchi nel tavolo Mi chiedo perché Bloccato Quanti sono No Io devo prendere il sesto Uno, due, tre, quattro, cinque Si ne manca uno Dove sei? Uno? Ci sono sei buchi nel roba Mi chiedo perché Io ho un cacciavite Non so se può essere d'aiuto Ma io ho un cacciavite Manca uno dei nanetti Che si impicchi Penso Eccolo qua Il maledetto che non mi segue Perché non mi segue? Seguimi Eccolo qua Vieni con me Vieni Molto bene Vieni con me Ok Sembra che sia arrivato pure quell'altro Si Sembra che abbia perso qualcosa No Ho ancora il cacciavite Ti sbagli Bello È ancora bloccato Si Il cacciavite che fluttua è normale Non lo so Allora Seguiamo qua di nuovo Vediamo a dove ci porterà Questo luogo meraviglioso e fantastico Ci porta nell'altra ventola Che ci porterà da Sam Molto probabilmente Oh Una mela Che in realtà Sembrerebbe essere un cuore Dimmi che non è un cuore In realtà è un cuore Fantastico Io volevo che fosse una mela Control Dai che manca solo l'ultimo giorno Domenica manca Domenica tutti si riposano Anche i nannetti morti Vediamolo Wow Ok Questa Cioè Ah ok Chiave in sanguinolenta Fantastico Andiamo qua Andiamo qua Buondì Buondì proprio Non guardare indietro Ho il cacciavite Fortunatamente Si ringrazio tutti quelli Che me l'hanno donato Andiamo a sinistra Perché io sono sinistro Grazie Era la scelta sbagliata Non è vero Non è detto in realtà In realtà si Ehi Ho sbagliato tasto Alzami Alzami Controlliamo Questa è una stanza Inutile Ok Io sono andato a sinistra Perché sono sinistro Se fossi andato a sinistra Sarei morto Andiamo allora a destra Destra is the way Ok Ciao Sam Ti voglio bene Ehm It's not time yet Che che Cucu Che Chiudo la porta Ok Se non vuoi essere disturbato Sembri confuso No ti sbagli Do not tell anything Ehm 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 Segui l'oscurità Ok Ok Oh forse no E questa è domenica Follow the darkness È comparso per un secondo Ok Quindi Followiamo the Ciao Sam Bello Siamo in giardino Si Tutti Tutti possiedono un fantasma Che li perseguita nel cimitero Privato Che possiedono ovviamente Da dove sono venuto Non mi ricordo Da qua To Fatto Mi segue ancora Quella roba Facciamo finta di no No Non può essere fin qua Non puoi No Andiamo di qua Qua è giusto Controlliamo che questo sia aperto Dimmi che è aperto Grazie Cos'è questo La porta è bloccata Là c'è un po' di sangue Fantastico Il pozzo Non posso vedere il fondo È troppo Troppo dark Ok Troppo oscuro Posso uscire? No Grazie Dai che è domenica Mamma mia Qua è bloccato Invece no Ok Ciao Sam Ti ho visto Non far finta di no Perché io ti ho visto Allora Qua ci sono delle bellissime lapidi Questo Fantastico It's not time yet Ok Il pensiero copre la verità Come la luce copre le tenebre Che c'è? Che c'è? No Non puoi bloccarmi Andiamo tutti nel pozzo ragazzi Pozzo is the way Pozzo Pozzo dimmi qualcosa Pozzo Stiamo andando verso lo spirito paura No? Si Pozzo no Pozzo vai via Allora Pozzo pozzo Qui che cosa abbiamo? La cattedrale Circumnavighiamo la cattedrale Per controllare che non ci sia nient'altro Ok Non c'è nient'altro Allora Molto bene Pozzo basta Ok Qua non c'è ancora nulla Inventario vuoto Pozzo silenziati Ok Fantastico Circumnavighiamo la cattedrale Come sempre Vediamo qua Oh Che bello Che sono potuto entrare qua Per osservare Una lapide Bello Andiamo qua Qua possiamo osservare una lapide Una lapide Una lapide Un'altra lapide Ok basta basta Io devo finirla Di ispezionare troppe cose Andiamo direttamente qua Dove vuoi che vada Prenderò questo Sam ti prego Non lo fare mai più Perché io giuro che piangerò Che cavolo mi frega Del wifi Visto che sto giocando Una roba in cui non c'entra il wifi Equipaggiamo la pala Andiamo qua Sam Non posso vedere Il fondo è troppo scuro Allora Una pala Teoricamente Serve per scavare Però Dove dobbiamo scavare Domanda Qua Possibile Sembra Sembra che non ci sia nulla Vuoto Sembra che non ci sia nulla Che strana moneta Sembra che sia stata qua Per millenni Ok Non ci sia nulla Vuoto Vuoto Sembra che non ci sia nulla Vuoto Qua Le abbiamo scoperte tutte Poi Qui Non c'è nessuna tomba Per cui andiamo via Abbiamo trovato una moneta antica Ragazzi Silenzio Pozzo Qui c'era una singola tomba Che è questa E che non c'è nulla all'interno Qua Vuoto Qua Vuoto Ma aspetta un attimo Di solito Si buttano le monete nel pozzo Per cui proviamoci ragazzi Non vedo il fondo È troppo Sembra di non aver raggiunto Il fondo Ok Non posso vedere il fondo È troppo scuro Ah Forse si è aperta La roba davanti Ti prego dimmi di sì Ti prego voglio terminare Questo gioco sì Per favore grazie Ti prego dimmi Che è completato Ti prego dimmi Che è completato Cos'è Sono diventato Un dio antico No Non lo sono Mi sono appena svegliato Com'è Oh Corridoio Fantastico Bello No Veramente Porta Portami da qualche parte La porta è bloccata Che cavolo è sta roba Dormi No Ok ciao Tavolo Aiutami No Forno Niente Di nuovo No Ma perché Pensavo che fosse finita E ho una chiave Chiave bianca Non ho sonno Torna a dormire Per favore Ma Questo è il primo livello Ciao Sam Quindi È così che deve terminare Qualche vittima Di severi Di severi trauma Di severi trauma Ritornano nel loro mondo fantastico Dal quale non si potranno più svegliare In questo stato catatonico La mente della vittima Cercherà sempre di svegliare il corpo con dei piccoli dettagli Come strane situazioni Parole Un esperimento da Revolab Se vuoi più informazioni Sul team O sui progetti futuri Visita la pagina Eh vedete ragazzi I nomi sembrano italiani Però E ringraziamenti speciali Grazie a tutti Thanks for play Eeeh Ok Quindi raga Non è possibile Se c'era italiano Giuro che piango Quindi ragazzi Questo era Seven Days Non ho fatto Non ho fatto caso Alla lingua italiana Non è possibile Però Questo era tutto Quello che potevo fare Per questo gioco E noi Ci vedremo sicuramente Nel prossimo video Ciao a tutti Grazie per la visione!